Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della cupola della lanterna della chiesa dell'Annunziata a Montepagano, colpite da un fulmine martedì scorso che ha provocato danni significativi. I lavori finanziati dalla sovrintendenza e affidati alla ditta sono stati avviati dopo il sopralluogo effettuato sabato dai Vigili del Fuoco. Dai rilievi è emerso che la cupola mostrava segni evidenti di dissesto, mentre la struttura muraria, tranne nella zona d'impatto nei pressi della finestra ovest, era in condizioni abbastanza buone. A seguito di questo infausto evento meteorologico abbiamo, come sapete, con un'ordinanza interdetto alcune vie, evacuato delle famiglie e intercluso l'utilizzo della chiesa, simbolo storico della comunità di Montepagano. Grazie all'azione sinergica dell'amministrazione che ha scritto e perorato in maniera decisa questa causa, quella di far partire subito i lavori di messa in sicurezza, sovrintendenza, Vigili del Fuoco, stessa curia e direi che tutti gli attori importanti coinvolti in questo processo si sono attivati. La sovrintendenza, che ringrazio pubblicamente, è attivata da una somma urgenza a seguito appunto del tentativo dei Vigili del Fuoco di intervenire per mettere in sicurezza, non avendo mezzi che hanno la capacità purtroppo di entrare in questi vicoli stretti, quindi all'interno del borgo di Montepagano. L'unica soluzione è quella della somma urgenza con una ditta indicata dalla sovrintendenza che si sta adoperando per creare questi ponteggi che permettono in tempo, mi auguro brevissimo, di arrivare fino alla lanterna che deve essere messa in sicurezza. Sabato a seguito di un sopralluogo abbiamo avvisato che la cupola è in buone condizioni, per fortuna e soprattutto che in qualche modo la messa in sicurezza della lanterna e del torrino potrà permettere la riapertura delle vie e il ritorno delle famiglie nelle proprie abitazioni. La ditta sta montando un'impalcatura all'interno della chiesa per consentire il trasporto del materiale sulla cupola, necessario per la costruzione di una struttura esterna e per proseguire i lavori di messa in sicurezza. Le vie già interdette dall'ordinanza del 17 settembre insieme a Via della Misericordia rimarranno chiuse per la durata dell'intervento. Secondo lei quanto tempo ci vorrà? Non abbiamo dato tempi perché in questi casi bisogna essere molto prudenti, si parla di settimane, di certo la tempistica, in pochi giorni attivare la somma urgenza, mi dicono che è stato sicuramente un atto importante, quindi il quartiere, il consiglio di quartiere che è stato subito in qualche modo coinvolto e che ci ha chiesto, ci ha convocati per giovedì per rendicontare, ma tutti i cittadini di Montepagano sono certo che hanno apprezzato la solerzia e la celerità di questa amministrazione.